Ciao a tutti e benvenuti su Lele King TV quest'oggi faremo il cielo mi manca di questo album della Champions League 2018-2019 abbiamo qui le nostre figurine che abbiamo spacchettato nell'ultimo video di spacchettamento di questa raccolta quindi vi invito ad andarla a vedere se non l'avete visto vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un bel like a questo video e ragazzi a seguirmi sui social perché sui social mi puoi seguire su Instagram basta cercare Lele King TV su Facebook c'è la pagina Facebook e c'è il gruppo di scambio figurine di Lele King TV ragazzi questo canale è tanta roba praticamente ragazzi potete vedere video su YouTube potete seguirmi su Instagram con le foto che pubblico non dico tutti i giorni ma cercherò di farlo molto spesso relativo sempre alle raccolte che stiamo facendo e in più potete seguire il gruppo Facebook di scambio figurine dove potete scambiare con gli altri ragazzi che mi seguono sul canale YouTube ma anche con me perché tra poco iniziamo gli scambi allora ragazzi iniziamo subito questo cielo mi manca e la prima figura che abbiamo trovato è dell'Atletico di Madrid quindi andiamo direttamente alla pagina dell'Atletico eccola qui e è la numero 36 e mi manca che è Thomas quindi ragazzi iniziamo benino questo cielo mi manca con una figurina che ci manca quindi andiamo subito a posizionare nell'album eccola qui e questa è la pagina relativa all'Atletico poi abbiamo del Real abbiamo trovato la 52 che è Isco ragazzi vi invito anche a condividere i video con gli amici se vi fa piacere in modo che più siamo sul canale e meglio è ci siamo già arrivati a un buon numero però possiamo sicuramente migliorare e diventare sempre di più poi abbiamo del Valencia la numero 70 quindi giriamo pagina ancora e la 70 del Valencia mi manca anche questa ragazzi ottimo prime tre figurine tutte e tre attaccate sul nostro album abbiamo iniziato con il piede giusto speriamo di continuare così non si sa mai e poi dobbiamo andare alla figurina numero 121 quindi dobbiamo saltare parecchie pagine sono quattro pagine però intanto le dobbiamo saltare abbiamo trovato 121 il portiere poi del Borussia abbiamo trovato la 151 altra mancante ragazzi che si va a posizionare qui che è Wolf Lupo bene poi abbiamo la figurina che sono delle maglie la 175 sono le maglie del Manchester United in cui c'è la prima maglia che è quella rossa e la seconda maglia che è rossa simile a quella del Palermo tifosi pallermetane scusate per il tentativo di parlare in dialetto ma è un dialetto che mi piace particolarmente quindi ho fatto la figuraccia 208 eccolo qui che è la mela ex stella della Roma ormai al Tottenham per lui ha avuto inizi non facili lì al Tottenham però adesso ormai si è ambientato più che bene la 223 invece è Midlner centrocampista di esperienza del Liverpool Liverpool grandissima squadra quanto mi piace questa squadra anche se c'è una certa rivalità con la Roma dopo diciamo la finale persa anni fa e la semifinale l'ultima semifinale con il Liverpool non c'è grande simpatia poi abbiamo trovato Pastore altro argentino e altro doppione ragazzi quest'oggi gli argentini non sono particolarmente fortunati e poi andiamo alla pagina dell'Inter in cui abbiamo Skrignar doppione ragazzi e De Vrij altro doppione quindi argentini e club italiani questa volta su questo ce l'ho mi manca non sono andati benissimo Paris Saint Germain non abbiamo trovato nessuno Monaco abbiamo trovato lo scudetto col 326 questi scudetti molto belli questa edizione della Tops della Champions League ecco qui poi abbiamo dell'Olympic Lyon la 353 andiamo a vedere se ci manca ci manca che è Tete giocatore olandese di 22 anni ecco Tete poi abbiamo la 358 altra mancante sempre dell'Ione poi abbiamo la 371 che è doppione della locomotive Mosca Farfan doppione qui Farfan in questa figurina ha gli occhi spiritati guardate qua che occhi Farfan ci ha detto male poi abbiamo CSKA Mosca Hernández Abel Hernández giocatore che ha militato nella Serie A con il Palermo l'ho detto e lo ridico poi abbiamo la 404 Herrera del Porto giocatore seguito da club italiani non si sa se il prossimo anno lo potremo vedere nel nostro campionato ma staremo a vedere giocatore messicano che gioca nel Porto poi dobbiamo arrivare alla 456 456 ce l'ho un doppione club Bruges Galatasaray 474 mi manca Rodriguez Rodriguez e lo andiamo attaccare qui sull'album poi andiamo al CSKA no Victoria Pulsen scusate e questa ce l'ho è doppione come potete è doppione quindi niente di fatto poi abbiamo la 511 doppione Ferreira del Benfica 532 doppione Onana portiere dell'Ajax poi abbiamo la 565 andiamo un po' troppo avanti e invece questa qua mi manca che è della stella rossa Stoicovich e poi abbiamo la 591 che è un'altra mancante che è Clonaridis dell'Ikdene giocatore che è di nazionalità belga come si può vedere ma il cognome è tipicamente greco ok ragazzi per questo ce l'ho mi manca è tutto questo album poi vedremo più avanti in altri video a che punto stiamo con questo album faremo il punto della situazione con il mio album calciatori il mio album Champions League 2018 2019 della Tops in cui andremo a vedere quante figurine ci mancano squadra per squadra e lo andremo a sfogliare insieme quindi ragazzi mi raccomando iscrivete al canale se non siete iscritti continuate a seguire l'Ele King TV ciao a tutti ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao